Ciao, sono Filippo Berto e sono titolare di Berto e ho un invito speciale per te, dove avrai l'opportunità di ascoltare idee stimolanti e strategie tutte dedicate al design e all'innovazione nell'arredamento. Il 28 maggio, dalle ore 17, Berto, in collaborazione con Dagorà, ha organizzato all'interno del proprio store, nel cuore di Lugano, un evento imperdibile dal titolo Design & Furniture. Dagorà si occupa di riunire aziende, investitori e start-up per creare un ecosistema di lifestyle tech più forte e innovativo. Il Timberto, nel canton Ticino, si impegna attivamente collaborando a progetti di ricerca e sviluppo per promuovere l'innovazione nell'industria del lifestyle, attraverso sinergie con istituzioni e università. Il Community Day è un evento tutto dedicato al territorio svizzero, che invita architetti, interior designer e appassionati a cogliere in modo del tutto nuovo il settore design e lifestyle. In veste di moderatore avremo con noi Bianca Bonetti, speaker manager di Dagorà, e avremo l'onore di ascoltare Pietro Porretti, direttore della divisione dello sviluppo economico della città di Lugano, e Daniele Panato, community director di Dagorà. Ci trovi a Lugano in via Besso 42, richiedi ora il tuo passo esclusivo. Sarò onorato di averti con me.